Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, oggi vediamo come installare Windows 11 praticamente su qualsiasi dispositivo anche su tutti quei dispositivi che non dispongono del Secure Boot, del TPM, del UEFI, dei 4GB di RAM, del processore di un certo tipo e così via Ci doteremo di tre cose fondamentali, l'immagine ISO di Windows 11 che adesso andiamo a scaricare, una pendrive da almeno 8GB e poi il software Rufus che andiamo a installare facilmente scrivendo su Google Rufus e installandolo in pochi passi Andiamo a vedere però come fare appunto a scaricare inizialmente l'ISO del sistema operativo Windows 11 Da qualsiasi PC andiamo a cercare su Google Windows 11 ISO Download e questa ricerca ci porterà direttamente sul sito della Microsoft che ci permetterà di scaricare comodamente l'immagine ISO del sistema operativo, l'immagine vera e propria di quello che è il sistema Basta scendere in basso dove c'è Download dell'immagine del disco ISO di Windows 11 e selezioniamo il download che appunto è il Windows 11 Multi Edition ISO Questo Multi Edition significa che ci permetterà di installare Windows 11 in tutte quelle che sono le sue versioni Quindi la Home Edition, la Professional e così via Scegliamo la lingua, voi naturalmente potete scegliere l'italiano o qualsiasi altra lingua voi vogliate Io nel mio caso ho scelto di installarlo, di scaricarlo in inglese, faccio conferma, attendo la convalida della richiesta e il passo finale è quello di cliccare sul link 64 bit download che mi permetterà di scaricare l'immagine ISO di Windows Naturalmente ci vorrà un po' di tempo, un'immagine da 6 giga e 300 mega, dunque a seconda della velocità di connessione potreste avere più o meno tempo da dedicargli Che cosa succede quando il download sarà stato effettuato? Salviamo l'immagine dove vogliamo, nel mio caso l'ho messa qui sul desktop e installiamo il software Rufus nell'ultima versione disponibile Lo troviamo come detto su Google, quindi basta scrivere su Google Rufus ed è questo qui con questa iconcina a forma di pendrive Che cosa possiamo fare a questo punto? Rufus ci permetterà di scrivere l'immagine ISO di Windows 11 su una pendrive e ci permetterà di farlo bypassando i requisiti minimi che sono richiesti da Windows 11 Come si fa? Io nel mio caso agirò per trascinamento, quindi prendo l'immagine e la metto nella selezione boot Vedete? Quindi in automatico mi è stata caricata l'immagine ISO Scelgo l'installazione di Windows standard Naturalmente avrei potuto anche cliccare sul pulsante selezione Avrei potuto prendere l'immagine ISO su una cartella diversa Per comodità io l'ho messa sul desktop e per trascinamento l'ho messa nella selezione boot A questo punto dove vedete in alto dispositivo unità Vedete che c'è scritto Xubuntu eccetera eccetera Non vi fate ingannare da questo Semplicemente questa è la mia pendrive Che conteneva un sistema operativo Xubuntu Ma questo dispositivo unità rappresenta la mia pendrive Fate attenzione a questo dettaglio importante Perché Rufus in automatico quando voi inserite una pendrive Rileva quella pendrive come dispositivo propedeutivo alla scrittura Se così però non fosse state attenti perché se selezionate un disco sbagliato Poi rischiate di formattare il disco sbagliato e di installare l'ISO di Windows 11 Su un dispositivo che magari contiene dei dati Quindi su questa fase molta attenzione Scegliete con cura il dispositivo pendrive che siete certi possiate formatare Quindi come detto il dispositivo unità rappresenta nel mio caso Appunto l'unità F, la mia pendrive da 16GB che è una SanDisk E passiamo agli schemi di partizione Qua facciamo un altro piccolo passaggio Nello schema di partizione voi potete scegliere GPT se avete un sistema UEFI E potete scegliere MBR se avete un sistema BIOS Che cosa significa? Nei vecchi computer, parlo di computer particolarmente datati Potreste avere un sistema che si chiama BIOS anziché UEFI Il che prevede uno schema di partizionamento che è l'MBR Ma se siete indecisi e non sapete Io vi consiglio di utilizzare lo schema di partizione MBR Perché se selezionate MBR Questi funzioneranno sia sui vecchissimi computer che sui recenti Quindi MBR va bene ad operarlo sia su sistemi BIOS che su sistemi UEFI Se però già sapete che il vostro sistema è un UEFI Quindi potete scegliere lo schema di partizionamento GPT Tanto meglio perché naturalmente scegliere il GPT è preferibile all'MBR Per una serie di ragioni Quindi vedete GPT UEFI MBR BIOS Questa è l'accoppiata Nel mio caso io sceglierò uno schema di partizionamento di tipo MBR Perché lo devo andare a installare su una macchina di cui non sono certo Vado a mettere l'etichetta volume Che significa il nome che darò alla mia pendrive da ora in poi La chiamiamo per esempio Windows 11 Quindi si chiamerà volume F Windows 11 Alla formattazione E quindi non più su Ubuntu eccetera eccetera Come detto metto lo schema di partizionamento in MBR E procedo con il sistema di avvia E qui si concretizza la magia In pratica il sistema Rufus in automatico Mi va a rimuovere i requisiti minimi Che sono i 4 giga di RAM Il Secure Boot e il TPM 2.0 E mi rimuove qualora lo volessi Anche i requisiti per il Microsoft account online Che significa che quando io vado per installare Windows 11 Mi chiederà un account di Microsoft online Se questa cosa in qualche modo mi disturba Perché non ce l'ho Non voglio accedere con l'account Microsoft eccetera Posso bypassarlo Per bypassarlo diciamo nella migliore delle maniere Nel migliore dei modi Dovrei non soltanto rimuovere i requisiti per Microsoft account online Ma dovrei anche creare un account locale in automatico In modo che accederò direttamente con quell'account locale E Rufus mi permette anche questo Nel mio caso io lascio la rimozione dei requisiti tecnici Ma anche dei requisiti del Microsoft account online Non creo l'account locale Perché vi faccio vedere come è possibile farlo lo stesso Una volta che andremo a costruire la nostra immagine Una volta che andremo a installare il nostro sistema operativo Windows 11 Do l'ok E mi preparo alla costruzione dell'immagine Il sistema mi avvisa che verrà formattato tutto Ve l'ho già detto Andiamo avanti E attendiamo che questa operazione finisca Quando l'operazione sarà finita La nostra pendrive sarà pronta Per essere utilizzato come dispositivo di boot Da inserire sui nostri PC Sui nostri device Qua io non vi posso far vedere come si fa Nel senso che ogni computer Ogni dispositivo Ha un suo brand Cioè può essere un HP Può essere un Lenovo Può essere un Acer E ognuno Ciascuno di questi brand Ha un suo modo Per far startare Un dispositivo esterno Come boot principale Dunque non vi posso far vedere come si fa Perché dovrei farvi vedere Le varie opportunità Le varie configurazioni In genere si usano i tasti ESC F12 F8 All'avvio In modo che si possa andare a selezionare Il boot da pendrive Piuttosto che da disco rigido Ma questo purtroppo lo dovrete fare In autonomia Una volta che l'immagine Come detto Sarà stata scritta Inseriamo la nostra pendrive sul PC La avviamo come boot principale E parte l'installazione Di Windows 11 La schermata che ci si presenta davanti È quella della lingua da installare In automatico da me Andrà in lingua inglese Ma da voi andrà in italiano Se l'avete scaricata in italiano Diciamo che in questo momento Non abbiamo un codice product key Selezioniamo la tipologia di edizione Che vogliamo installare Nel mio caso la Windows 11 Pro Accetto le condizioni di Microsoft Faccio un'installazione customizzata Seleziono il disco su cui installare E procedo Tutto questo molto rapidamente Ma la cosa che Credetemi sulla fiducia È incredibile È che in questo momento Questo PC Che non aveva il ben che minimo requisito Per poter installare Windows 11 Non solo l'ha installato Ma come vedete Il sistema parte Funziona perfettamente E non ha avuto bisogno Di tutti quei requisiti stringenti Procedo alla configurazione Del dispositivo In termini di lingua E di layout Della keyboard E aspetto Di arrivare a questa fase qua Dove innanzitutto Qui do un nome al mio PC Quindi scelgo il nome che voglio Gli do il nome che voglio E vado avanti Naturalmente qui lo potete chiamare Come volete Attendiamo ancora un momento E adesso Se io faccio il setup Per l'uso personale Nel momento in cui vado a fare il sign in Qui c'è il problema Qui c'è il problema dell'account Microsoft Nel senso che appena clicco su sign in Mi chiederà di fare l'accesso Con l'account Microsoft Allora se ce l'abbiamo Meglio così Inseriamo la nostra mail Microsoft Accediamo con il nostro account Microsoft Tutti contenti Se non ce l'abbiamo O non lo vogliamo fare Non c'è problema Torniamo indietro Facciamo Utilizziamo il setup Per la scuola O per lo studio Diamo clic su next E nelle opzioni di sign in Qui in basso Scegliamo raggiungi un dominio Ok? Anche se non è vero Anche se non è il nostro caso E qui mettiamo il nome Dell'account locale Che vogliamo creare Nel mio caso user Quello che all'inizio Rufus ci voleva creare Sotto forma nel mio caso di Gianfranco Non so se vi ricordate Lo potete andare a vedere indietro Inseriamo una password E il nostro account Oppure no Secondo se volete metterla E il nostro account locale Sarà stato creato In questo modo Abbiamo bypassato anche La richiesta Dell'account Microsoft Online Qui vado a disabilitare Tutti i settaggi Relativamente alla privacy Quindi all'invio dei dati Accetto Quindi continuo L'installazione di Windows 11 E tra poco Dopo che sarà finita La fase di configurazione Dell'account locale Il sistema operativo Sarà pronto Per l'utilizzo Ed una cosa Che vi posso dire Che sebbene questo PC Come detto Non avesse nessun requisito Tecnico Ma forse anche scarso Fosse anche scarso Di equipaggiamento hardware Windows 11 gira Abbastanza bene E questa è dimostrazione Del fatto Che Windows 11 Non ha dei requisiti Particolarmente alti A livello di Opzioni hardware Ce li ha sicuramente E sono molto stringenti Troppo stringenti A livello di sicurezza E questo taglia fuori Una miliardia di dispositivi Che invece A mio avviso Hanno ancora tanta vita utile davanti E non ha senso Secondo il mio parere Doverli andare a dismettere Capisco che Nel nome della sicurezza Possiamo immolare tante cose Però andare a Dismettere dispositivi Perfettamente funzionanti Andare quindi a Impattare Anche a livello ambientale Oltre che economico Secondo me È un errore Insomma Dunque Poter bypassare I requisiti minimi E installarlo lo stesso Secondo me È una cosa Buona e giusta E si può anche provare a farla Naturalmente Questo lo dobbiamo accettare Stiamo installando Un sistema operativo Che non ha I requisiti Che vuole Microsoft Quindi in termini di sicurezza Ci mancherà tanto Attenzione Non è che Sono cose inutili Quelle che Microsoft vuole Farci fare Quindi Il compromesso è questo Noi Accettiamo Di installare Un sistema operativo Che sarà Non come Mamma Microsoft vuole Ma sarà Un sistema operativo Con delle limitazioni Dal punto di vista Della sicurezza Dunque Lo dobbiamo accettare Nel momento in cui Decidiamo Di installarlo In questo modo Bene Ragazzi Per questo video è tutto Se vi è piaciuto E spero di sì Lasciate un like Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao